ciao ragazzi ben ritrovati nel mio canale ben ritrovati con alex carson allora ripropongo il video perché a quanto pare la live sia un po impallata e quindi ho dovuto cancellare insomma il video dal mio canale ripropongo semplicemente ciò che andrete a vedere per il prossimo periodo in questa prima parte che l'ho chiamata parte 1 praticamente andiamo solo sulle impostazioni di modifica ci sono tre patch nuove lasciamo perdere come avevo detto nella precedente live le nazionali classiche è una cosa improponibile perché appunto va ad inficiare va ad influire sugli slot dei giocatori presenti nelle altre patch quindi tutto incompatibile a meno che non seguiate uno sviluppatore unico che allora sarà lui a mettere a posto tutto e a non farvi perdere alcun tipo di dato visto che non ci sono le nazionali classiche che dite ho preso l'idea da due youtuber un greco e uno francese che hanno rispettivamente la ligan del 79 80 e un greco che ha letteralmente la serie a greca classica e ha detto benissimo siamo in italia e noi abbiamo secondo me due annate di patch che sono proponibili appunto nel nostro pes e di che patch si trattano anzi tre patch perché se siete nostalgici come ho scritto nel nel video non potete non avere queste tre patch soprattutto se siete over 40 beh serie a 9293 lo sviluppatore è dedex trovate la patch sulla sua pagina youtube oppure andate sul sito pesfutebol.com sull'opzione download options file dei pes 2020 al classic options team trovate questa è molto semplice è l'annata del di quel milan che non si fermava mai è l'annata mi pare dove sebastiano rossi al tipo il il record di imbattibilità quindi come vedete è la è l'annata però dove il milan mi pare che perse la finale di coppa dei campioni a monaco col marsiglia me lo confermate comunque è l'annata di questo milan è l'annata dell'inter di sosa e schillaci forse e di darco panchev come vedete in panchina è l'annata del parma di di nevio scala a che appena vinto la coppa italia e va a giocarsi la coppa delle coppe è l'annata della juventus di bia baggio e moeller che se non sbaglio vince la coppa uefa ma potrei anche sbagliarmi che altra annata è guardate che lazio è l'annata della roma di hassler giannini e rizzitelli e di un giovane francesco totti che lo vedete lì in panchina che esordirà con voyadin boscov come allenatore è la prima annata del napoli senza maradona dove si farà notare gianfranco zola è l'annata per esempio della fiorentina di batistuta e bagliano che era una coppia d'oro spettacolare in questa pace serie a 92 93 ci sono 18 squadre di serie a e 6 di serie b le 6 di serie b in questione sono le ultime 6 cioè ascoli padova lecce piacenza cremonese reggiana presumo siano queste le 6 di serie b vi faccio solo vedere il resto delle rose intanto intanto che andiamo adesso le scorriamo un po tutte così potete vedere benissimo è l'annata del cagliari di francescoli sampdoria senza viagli ma con un giovane enrico chiesa padre di federico chiesa l'annata di dell'atalanta tra l'altro di rambaudi e gans il torino che aveva scifo a ghilera e casa grande pasquale bruno in difesa c'era il grande trequartista alvise zago lo vedete in panchina era una grande promessa del calcio infortunato e c'era un giovane christian vieri in panchina ho detto la roma il napoli il foggia il primo foggia di c'era dan petrescu il terzino rumeno destro fortissimo il primo tridente bresciani eroi colivano il genoa di branco scuravi e padovano c'era una grande serie a questa è l'udinese lo vedete di branca e balbo e di dell'anno il brescia di george agi raduccio io la fiorentina appunto di effenberg laudrup battistuta e baiano nella serie b non solo ancora sera in serie a se non sbaglio mi pare sì il pescara di massara e borgo nel povero borgonovo insomma come vedete vedete tutte le a de zotti e tentoni de zotti che si fa poi la finale d'italia 90 quindi non era poi l'ultimo dei giocatori arrivati il piacenza il lecce di baldieri rizzolo e notari stefano guardate il padova e guardate in panchina chi c'è c'è un giovane alessandro del piero l'anno prima poi di approdo alla juventus lascoli e c'era un giovane oliver biroff andiamo no scusate serie a 84 85 va al posto della lega peo lo trovate sempre su pace football puntocom come vedete squadre corte perché naturalmente all'epoca non c'era il bisogno della panchina lunga e eccole qua non so perché claudio gentile lo vediamo sia all'atalanta che alla fiorentina mi dovrò informare al riguardo l'avellino di barbadio e diaz se siete della mia età lo conoscete tutti se siete over 40 li conoscete la cremonese di juari la fiorentina di massaro pulici monelli e socrates e antonioni soprattutto questa è l'annata dello scudetto del verona e quindi ecco qua il verona dello scudetto l'inter di altobelli rumenighe e liam bredi non c'era ancora l'hotar mateus che emergeva nel bayern la juventus di platini boniek e paolo rossi la lazio la lazio della retrocessione che però aveva d'amico laudrup giordano e il milan di atley e wilkins il milan di lidl il napoli della prima annata di de armando maradona il primo anno a napoli fu questo con bertoni davanti e c'era salvatore bagni la roma di pruzzo graziani bruno conti falcao sereso era la roma la roma vinse lo scudetto però mi pare non 82 83 se non sbaglio la sampdoria dei giovani vialli e mancini il torino di shakner snh arrivò secondo ed era veramente un torino fortissimo e junior l'udinese di zico e carnevale è un giovane massimo mauro che oggi è intervistatore e opinionista del di sky e infine su basa league chi è su basa lo conoscete tutti non è nient'altro che ho lì e benzi quindi se siete per quello ho scritto nel video se siete over 40 proprio perché siamo cresciuti con queste annate di calcio e siamo cresciuti tutti con holly e benzi ci sono due versioni quando andrete sul sito passfutebol.com ci sono due versioni c'è la versione giapponese quindi con i nomi originali giapponesi o c'è la versione spagnola che ha i nomi misti giapponesi e inglesi una cosa dovrete cambiare il nome oliver atom perché oliver atom in spagnolo comunque ci sono squadre che non conosco tipo la army e la tubo ma la fly net la conosciamo tutti di philip callahan non era callagan con la g non mi ricordo la hot dog la hot dog la conosciamo tutti per i fratelli derrick per momento è stata creata appunto per ma un po per divertimento anche perché poi in arrivo il 28 agosto c'è proprio il gioco ufficiale di holly e benzi vediamo se qualcuno si ricorda l'airado e soprattutto questo difensore qui che era clifford yuma ed era praticamente una bestia vediamo l'aspetto che altezza gli andato fisico voglio giusto vedere il fisico 180 ma anche di più ma facciamo che era anche 190 lui e pesava un bel voto sì certamente clifford era qualcosa di potente modifichiamo le certe cose perché appunto ecco voglio vedere sandy winter come l'hanno fatto era molto piccoli 1 e 55 dai meno di maradona dai almeno facciamolo 1 e 65 è che i giapponesi non è che sono altissimi però insomma non sono andato a vedere poi dello specifico la mappet allora qui avete un problema avrete un problema perché nella mappet troverete ed warner benny mellow e naturalmente mark landers io ho fatto delle sostituzioni ho fatto dei trasferimenti addirittura il portiere osako proviene in realtà da una squadra giapponese che è il tipo il quarto o quinto portiere perché non c'erano altri portieri di riserva melory l'ho trasferito dalla mambo e quindi insomma ho fatto in modo che avessero se almeno 16 giocatori anche loro la mambo di julian ross io voglio vedere julian ross classico numero 10 che tipo di resistenza gli hanno dato abilità vediamo che resistenza gli hanno dato è infatti resistenza bassa lui si si stancherà molto presto in campo e lo sappiamo tutti il perché poi se dovete darmi qualche suggerimento date la nevada non so chi sia la norfolk mi pare a teo seller attenzione il portierone che aspetto gli andato al portiero mamma mia che brutto 22 metri e 10 per 129 kg segnarli sarà un'impresa bellissima questa cosa qui e infine vai andiamo alla new team insomma benjamin price che altezza e peso gli andato a price tra l'altro in questa versione in teoria benjamin price non dovrebbe esserci dovrebbe essere già in germania 1.74 dai va bene dovrebbe essere già in germania ma in realtà lo teniamo qui dai per esempio tom baker poi vi spiegherò dove l'ho trovato eccolo qua ho liberato che può giocare ovunque voglio no le abilità voglio vedere il fisico che gli hanno dato adatto beh dai ci sta anche perché i giapponesi dai non sono altissimi ragazzi non sono proprio delle dei cristoni brusar per mamma mia brusar perché brutto comunque ecco qua fatta anche lui allora in voi troverete un certo jack morris non ho idea di che squadra sia e qui qualcuno esperto dovrebbe aiutarmi io jack morris l'ho levato letteralmente esattamente come ho levato da questa squadra qui tom baker non so perché era qui non so perché non chiedetemi il perché qui deve rispondermi qualcuno che lo sa l'automo eccolo qui la jack morris il charlie caster anche però c'è attenzione vabbè lo teniamo lì tanto non fa male a nessuno e patrick everett o anche gil taylor mezzi della new team sono qui perché vedo anche gil taylor anche qui e quindi va ok lasciamo per contano i titolari la shimada che non so chi sia quindi qui dovrete aiutarmi voi la stenton nemmeno e beh questa la conosciamo tutti la to di ed warner danny mellow e soprattutto mark landers ragazzi che succederà sicuramente faremo questo campionato e cambieremo un po la storia della situazione perché prenderò la torna io voglio vedere soprattutto qui oltre al fisico penso un fisico normale sia alla fine non era tanto voglio vedere però la potenza del tiro minimo gli avranno dato 99 90 appena 99 ragazzi mark landers bucava tutta i 97 proprio non stiamo esagerando quindi queste sono le tre patch su me si sono tre patch diverse tutte compatibili perché perché una va appunto nel campionato pass che campionato asiatico quindi potete tranquillamente farlo una va nel campionato cosiddetto lega peula fittizia europea e la terza patch invece va nella seconda divisione inglese un consiglio che io vi do spassionato se avete altre patch e compagnia createvi un secondo account spero non abbiate troppe immagini scaricate andatevi a vedere la mia live che ho fatto precedentemente che parlavo appunto di problemi nell'importazione delle patch diverse di diversi sviluppatori che possono dare dei problemi e dei casini e li vedrete proprio lì li ho fatto in diretta proprio perché tante volte non si riesce a capire il perché ma in realtà è proprio una questione di slot di giocatori di numero di giocatori di come vanno a prenderli i giocatori gli sviluppatori dalle campionati fake per trasferirli nelle proprie patch quindi queste sono tutte e tre compatibili quindi un consiglio createvi un secondo account potete farlo sulla playstation sempre sotto l'account originale di appunto l'account principale originale e potete giocare appunto con con queste con queste con questa patch detto questo ragazzi io vi auguro buon divertimento ci rivedremo per sicuramente la cosiddetta subasa league come l'ho chiamata io e poi vi faccio a voi la domanda serie a 92 93 84 85 come campionato dopodiché ci rivedremo per un altro video e vi mostro come è cambiato anche il mio account tra virgolette principale con tutte le squadre classiche che riguardano l'europa e le sudamericane ragazzi questo è tutto e alla prossima ciao a tutti